Come sarà strutturata una lezione universitaria? Riuscirò a seguirla. È per rispondere a domande come queste che potrebbero porsi le nuove studentesse e i nuovi studenti che Unicam ha organizzato nei giorni scorsi l'iniziativa a lezione CON, nel corso della quale un docente per ogni scuola di Ateneo ha tenuto una lezione ed è stato poi a disposizione per rispondere ad eventuali domande o per chiarire dubbi. Gli studenti hanno così avuto la possibilità di fare una prova generale delle lezioni grazie ad una staffetta che ha visto i docenti passarsi il testimone. Si è iniziato con il professor Francesco Casale della scuola di giurisprudenza, poi il professor Giacomo Rossi della scuola di bioscienze e medicina veterinaria, il professor Pippo Ciorra per la scuola di architettura e design, la professoressa Piera Di Martino per la scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute, il professor Emanuele Tondi per la scuola di scienze e tecnologie, a chiudere la mattinata e la rettore Claudio Pettinari con una lezione sulla chimica della vita.